Bene ragazzi sono qui che sto combattendo con il termazzo che ci ha appena chiuso la porta Ho sbagliato? Ok Sovattu Vai gano? dai randagast un po' di pagano che scappano da favore randagastficce ha detto correte non corre oddio che figata sto gioco per il fatto che dura così poco certe parti non ha fastidio oddio è la madre di tutti i leghi oddio ora hai fatto benissimo io ho fatto hai amato il filo dovremmo solo continuare a divenderci da questo cioè dagli attacchi quelli blu oddio era un attacco diverso o l'arona laggata ma io cosa devo fare oddio non c'è ecco è Sauron non c'è nulla è solo pure morto è un casino è un casino sto con la morire come se fosse una letter si così ragazzo come fai a fare un scudo e non so far il mago finalmente lo dovremmo fare per tre volte oddio sono giusto a fare un scudo che figo si ci ho fatto vai 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 ancora una terza volta mi sa oddio sti occhi del cavolo non lo scudo però sono in questo livello non c'è anche niente c'è questo come così aspetto notare la forma dell'occhio perché è l'occhio io ho fatto dai che pare muore il mago così e aspetto cioè non so cos'erano quei raggi stranieri ragazzo hai lo scettro a raggi laser oi 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 o basta non ce la faccio con sti orchi è un casino sto voi oi o 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 come Radagast si salva però vabbè è senza dubbio troppa no davvero ma lo so grazie lo so mi hanno dovuto fare un livello solo per me bene per questa specie di episodi di Lego Hobbit che non faceva da 300 anni credo sia tutto probabilmente il prossimo o quello dopo sarà l'ultimo livello dopodichè inizieremo a fare solo cose secondarie e ricominceremo la trama in un gioco libero per trovare i mini kit i progetti e gli oggetti daim the desolation of Smaug the sun will soon reach midday i must find the hidden door into the mountain before it sets this way wait is this the overload? Gandalf said to meet him here we have no time to wait upon the wizard come vabbè si sono portati con tutta quella roba ehem state un po' attenti e dopo tante eccola la montagna qual è la montagna solitaria? buona di queste o dovrebbe essere tipo per su di là bene ragazzi per questo episodio è tutto noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Game Legacy ciao ragazzi ciao ciao